nuova puntata di tg plus focus oggi abbiamo davide cecchinato presidente dell'adconsum veneto buongiorno buongiorno allora noi siamo particolarmente solleticati da degli articoli che escono sui giornali oggi abbiamo trovato su un giornale corsa alle vacanze estive mesi per la carta d'identità a treviso per esempio appuntamenti per il rinnovo fissati per fine agosto a conegliano da novembre è un bis del caso passaporti poi per dire zarobranco decide di aprire anagrafe di notte una cosa che riguarda un po tutto il territorio nazionale abbiamo sentito parlare spesso poi c'è qualche questura che lavora bene qualche questura che lavora male insomma voi che che cosa ricevete dai vostri associati e cose ricevete dagli utenti noi siamo molto preoccupati perché sono molti i cittadini che ci segnalano difficoltà nella possibilità di prenotare l'appuntamento per avere il rinnovo o della carta d'identità o del passaporto l'impressione che abbiamo è che ci troviamo di fronte a una pubblica amministrazione che non è in grado di onorare i suoi impegni nei confronti dei cittadini perché ricordiamo che è un diritto ottenere un documento che mi faccia viaggiare all'estero o come o comunque che mi dia la possibilità di essere identificato noi non ci possiamo sottrarre come comunità come istituzione come repubblica a mettere i cittadini nella condizione di ottenere ciò che gli spetta purtroppo questo accade nel settore della pubblica amministrazione della certificazione dei passaporti delle carte d'identità accade nella sanità accade in altri settori quindi non siamo davvero molto preoccupati stiamo monitorando attentamente la situazione diamo consiglio ai consumatori c'è anche da dire che ci sono alcune questure come diceva giustamente lei ma anche alcuni comuni che sono abbastanza collaborativi che tengono in considerazione anche le esigenze o le emergenze di taluni però è anche vero che tutti devono essere messi nella stessa condizione cioè di poter agevolmente ottenere quello che è il loro diritto sì diciamo che per esempio la questura di treviso apre delle finestre per riempire i buchi e funzionano queste queste soluzioni ma un po tutti gli altri probabilmente non c'è un coordinamento nazionale per quanto riguarda il buon lavoro generale voi che cosa ne pensate guardi allora in casi eccezionali ci possono essere è giusto mettere in campo anche misure eccezionali però mi pare di avere l'impressione che qui siamo nell'eccezione quotidiana cioè l'eccezione ormai è diventata la regola è questo che non va bene cioè noi dovremmo tornare a un sistema fare degli investimenti se servono aumentare il personale se serve fare tutto quello che è necessario perché i cittadini possono avere questi documenti in un tempo debito due mesi per la carta d'identità un mese per o forse di più per il passaporto sono periodi estremi quindi venga la buona volontà di porre rimedio anche lodevole apprezzabile che questo ci sia però bisogna a livello di sistema trovare una soluzione che sia una soluzione operativa efficace per tutti i consumatori questo diciamo se riguarda un rinnovo poi se uno deve fare deve farla proprio nuova nuovo questo documento non ce l'ha da tanto tempo ha tutto il tempo di pensarci adesso e portarsi avanti mi servirà tra tanti mesi posso farlo subito se invece c'è una certa urgenza probabilmente anche gli enti riconoscono anche le urgenze comunque questi sono anche altri discorsi che potremmo fare in altra sede e in altri momenti magari ci risentiamo proprio per vedere com'è andata grazie davvero a davide cecchinato presidente di adconsum veneto e buona giornata